in tv i piaceri della vita Sesta edizione di Vini da Mare al Twiga Forte dei Marmi Le ufficine del vino presentano un incontro di degustazione di vini e distillati italiani e stranieri riservato al personale, al settore bar, ristoranti e enoteche Signor Giampiero della tenuta Garretta, buongiorno Oggi ci presenta l'Altalanga Allora, l'Altalanga è il metodo classico piemontese, la DOCG piemontese è un metodo classico che richiede altitudini sopra i 250 metri per quanto riguarda il posizionamento dei vigneti richiede minimo 30 mesi da disciplinare di affinamento e di riferimentazione in bottiglia sui lieviti può essere fatto solo millesimato, quindi di un'annata specifica e questo che presentiamo è un padose del 2018 Sono con Lorenzo dell'azienda Ugovezzoli e ci presenta il Franciacorta Presento questo saten Franciacorta 100% Chardonnay 24 mesi sui lieviti Il saten è un prodotto molto fresco, molto facile da bere ha 2 grammi di zucchero per litro circa e ha una pressione più bassa in confronto a tutti gli altri Franciacorta per agevolare la beva e renderlo quindi più facile e più semplice Sono con Alberto della Cantina di Soave Rocca Sveva Buongiorno, oggi cosa ci presenta? Oggi presentiamo il nostro Soave Classico Castelcerino l'UGA, quindi il prodotto più importante della produzione appunto della Maison Cantina di Soave con il brand Rocca Sveva dedicato al mondo della ristorazione con la quale l'anno scorso, proprio nell'edizione scorsa di Vini da Mare abbiamo vinto il riconoscimento come miglior vino bianco in degustazione Sempre la Garganega, quindi il vitigno principe dell'area del Soave che dà vita in una zona particolare, qual è quella di Castelcerino a quella che secondo me è la sintesi perfetta del sistema Soave quindi per condizioni pedoclimatiche, migliore esposizione al sole, terreni vulcanici da dove appunto nasce la Garganega e dà vita al nostro Castelcerino Rocca Sveva in questo caso quest'anno presentiamo la nuova annata 2021 Riparliamo con una nuova edizione di Vini da Mare, la sesta e io sono con Gabriele Marcesini, buongiorno Gabriele Ancora una volta qui insieme Ancora una volta assieme qui, sì Allora, parliamo un po' appunto di questa manifestazione che è arrivata, come ho detto, alla sua sesta edizione spieghiamo un po' che cosa succede qui al Tuiga quali sono gli espositori, insomma raccontami un po' No, gli espositori vengono un po' da tutta Italia abbiamo poi degli importatori che vengono dalla Francia poi i vini dalla Francesi, Champagne, eccetera quest'anno abbiamo messo la novità di fare una gara fra i vermentini della costa Toscana e Ligure al di là delle denominazioni un gioco, facendo una degustazione alla cieca abbiamo formato una giuria di esperti quindi ristoratori, giornalisti, blogger, sommelier, appassionati un po' di tutto, in modo da vedere cosa viene fuori diciamo che questa è la novità dell'anno lo facciamo il premio, lo facciamo in collaborazione con la Scuola del Marmo di Carrara la Ipia Tacca di Carrara in modo da far vedere anche cosa fanno questi ragazzi con la lavorazione del Marmo infatti il premio è un piatto in Marmo offerto dalla Scuola quindi tanti vini, tanti distillati champagne, prosecco chi più ne ha più ne metta l'allegria sicuramente con tutto il ben di Dio che c'è e adesso mi auguro che la manifestazione continui a crescere come sta facendo adesso di anno in anno perché noi siamo contenti di essere qua al Twiga una vetrina prestigiosa sia per gli operatori che per noi ed è un posto piacevole dove accogliere gli amici e i clienti Grazie mille Gabriele Grazie a te Cooperativa 5Tere, sono con Lucio Buongiorno Lucio, che cosa ci presenti? Presentiamo la gamma completa dei nostri vini ma soprattutto la nostra produzione d'eccellenza lo Chaketra uno dei passiti più famosi al mondo che si produce solo alle 5 Terre Bosco, Albarola, Vermentino queste sono le varietà per produrre questo nettare degli dei così chiamato grappoli, spargoli, diradati che nascono vicini al mare in un terreno povero vicini alla salsedine il mare interviene nei nostri prodotti e porta qualità Brunner Sono Bottazzi dell'azienda Bottazzi 1957. Cosa ci presenta? Oggi presentiamo Franciacorta Brut, azienda Le Marzaghe, qui siamo a Cologna, sotto il Monte Orfano, Chardonnay 100%, 2014 millesimato, 5 anni di affinamento sui lieviti. Ottimo come aperitivo, a tutto pasto, con le bollicine non si sbaglia mai. Non solo vini, ma anche succhi di frutta di alta qualità. Goi, gioia, piacevolezza e felicità. Io sono con Pasquale che ce ne parla. Allora, diciamo che il nostro prodotto è un nettare di frutta, per nettare intendiamo 60% di frutta. Cerchiamo di valorizzare questo prodotto, anche perché vogliamo che in bocca rimanga il gusto di frutta e non solo il dolce di tutto quello che è un po' il nostro succo di frutta, quello che sia. Cerchiamo di lavorare con il prodotto dell'azienda agricola Quaglia di Manta, in provincia di Cuneo. La nostra frutta praticamente nasce ai piedi del Monviso, quindi fondamentalmente lavoriamo solo con prodotti del territorio. Quindi non troverete mai l'ananas e l'arancio da noi, ma solo mela, pela, pesca albicocca, fragole, lampone, mirtillo e ciliegia. In questi otto gusti. Pietro Re dell'olio Tamiya, buongiorno. Allora, parliamo di questo olio extravergine biologico. Sì, noi ci siamo specializzati, diciamo, nell'estrarre olio extravergine da singole varietà di olive. Siccome in Italia ne abbiamo circa 600, solo nella nostra regione ne abbiamo una ventina, lavorando sulle singole varietà si ottengono degli oli con profili differenti, sempre aromatici, sempre verdi, sempre vegetali, però che si abbinano a diversi piatti. Conto se mangio una tartare di gambero dolcissima o magari una bistecca fiorentina. Serviranno due oli completamente diversi e quindi noi offriamo alla ristorazione oli con profili adatti alla cucina che fanno. Meggiolaro, non solo vini, ma anche prosciutto, roast beef, birra di alta qualità. Di alta qualità. Allora, in realtà la Meggiolaro nasce con la porchetta. È uno specialista da tanti anni, solo di porchetta, cotta a bassa temperatura, senza nessuna spezia. Mi spiego. Ed è stato quello che è stato il trampolino di lancio per il mercato. Poi lui, a questa peculiarità, ha inserito l'arroganza, che è un prosciutto, diciamo, tipo il prosciutto di Praga, diciamo, sempre cotto a bassa temperatura, affumicato, ma leggermente affumicato. Si può avere anche non affumicato. È una specialità che sta dando un sacco di importanza a questo produttore, che mi onoro di dire è veneto, abita vicino a me, io sono un suo grande ammiratore ed amico. Questo qui è il roast beef, che l'ha voluto lo chef del Twiga, che dopo ti presenteremo, e che ha fatto anche la foto, perché l'ha inserito da quest'anno nei menu del Twiga ed è un gran prodotto. È il tuo luogo speciale dove vivere le emozioni. Proteggile dalle zanzare con frizzanze. Proteggile dalle. Proteggile dalleowy. Voletare le emozioni. Proteggile dalle. Contro. Proteggile dalle de D Beach e diniejsi diू會. Contro. V exacerbo. Li agir. Ora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.